Pettinari, siamo in via Lago di Borgiano dove la situazione è veramente difficile, anzi drammatica. Tante famiglie, tante persone che non sanno dove andare a dormire. È una vergogna. Noi siamo dieci anni che combattiamo chiedendo stanziamenti di risorse pubbliche per la manutenzione e la ristrutturazione di questi palazzi. Da quando sono entrati in regione l'amministrazione regionale a guida PD ha messo zero euro in bilancio. Non ci sono i soldi e questa è la conseguenza. Se non si mettono soldi per manutenere i palazzi, i palazzi arrivano a un pericolo anche per la pubblica incolumità. Oggi che cosa dobbiamo fare? Uno, che è il presidente di regione, che è il capo dell'amministrazione, perché questi sono palazzi regionali delle Ader, deve stanziare immediatamente risorse. Ma nell'immediato bisogna trovare degli appartamenti sfitti e ce n'è tanto di invenduto da parte degli costruttori e fare subito una convenzione con l'associazione costruttori e trasferire queste persone lì. Perché tanti di loro questa notte hanno dormito in macchina, in alloggi di fortuna. Alcuni sono stati dai parenti ammassati dentro a uno scandinato, a un sottotetto. Non è civile, non è da paese civile. Abbiamo iniziato immediatamente, nel momento in cui ci siamo resi conto l'altro pomeriggio che ci sarebbe stata un'emergenza, abbiamo messo mano a tutte le attività necessarie e indispensabili. Innanzitutto è stato aperto il COC, il centro operativo comunale, che sta portando avanti tutti i contatti per poter andare incontro ad attività di sistemazione in termini emergenziali in questi giorni. Sono state già trovate collocazioni per 69 degli abitanti e questa mattina, in questa giornata, si conta di trovare sistemazione per gli altri. Tutte le iniziative sono concentrate e finalizzate proprio a dare tranquillità alle persone che sono state sgomberate dai tre immobili. Avete reperito anche delle palestre comunali, almeno per questi primissimi giorni? Stiamo lavorando anche per questo, in maniera proprio da dare risposta alla possibilità di dormire, ma stiamo cercando altrettanto sistemazioni alberghiere, che ripeto per alcuni è già in corso ed è già avvenuta.